Pasqua blindata per gli italiani da ieri sera controlli a tappeto su tutto il territorio nazionale al fine di scongiurare le fughe soprattutto verso il mare e le località turistiche impegnati 70.000 uomini supportati da elicotteri e droni. Al nord i dati del contagio sono ancora in salita in Lombardia e Piemonte frenano sulle prossime riaperture, i governatori Fontana e Cirio mantengono la stretta fino almeno il 3 maggio. Troppo alti contagi con l'area di Milano che preoccupa dopo l'impennata di ieri. Zaia prepara una nuova ordinanza per il Veneto con un cambio di strategia, il lockdown è finito, serve remettere in sicurezza le aziende. Il Papa celebra la Pasqua con un rito inedito senza fedeli e in diretta streaming facendo sentire forte la sua voce. Oggi l'Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale dalla quale dipenderà non solo il suo futuro ma quello del mondo intero. Non si perda l'occasione di dare ulteriore prova di solidarietà anche ricorrendo a soluzioni innovative. Non è il tempo delle divisioni ha detto Bergoglio nel messaggio Urbi e Torbi chiedendo la fine di ogni guerra all'abolizione del debito internazionale. Il presidente Mattarella è tornato ieri a parlare agli italiani in un video messaggio, il terzo dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Sarà una Pasqua in solitudine anche per me, i sacrifici stanno dando risultati e non possiamo fermarci proprio ora. Prima riunione, Conte Colao, gli esperti della task force guidata dal manager hanno abbozzato i primi passi da compiere. Già nei prossimi giorni la tecnologia sarà decisiva contro la crisi. In una intervista al quotidiano tedesco Bild, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha detto che gli anziani dovranno restare protetti fino alla scoperta di un vaccino, non prima della fine dell'anno. Gli Stati Uniti sono il paese del mondo con il più alto numero di morti, oltre 1920 nelle ultime 24 ore. In Cina preoccupa il record di nuovi casi importati, 97 il numero più alto dall'inizio di marzo. Buongiorno, buona domenica e una buona Pasqua da parte di tutti noi. Una Pasqua sicuramente diversa, una Pasqua che noi dobbiamo passare in casa perché l'emergenza è ancora in corso, l'emergenza non è finita. Aumentano i guariti, diminuisce la pressione sugli ospedali, ma preoccupa l'oscillazione della curva di contagio e preoccupa soprattutto un aumento della mobilità, un aumento del spostamento degli italiani, delle persone. Il Viminale dunque ha intensificato i controlli sulle strade e autostrade, ha intensificato i posti di blocco. Sulle strade ci sono 70 mila uomini delle forze dell'ordine, della Polizia Municipale, proprio per fermare chi ancora non ha capito che bisogna stare in casa. Risuonano le sirene davanti all'ospedale Covid di Palermo, ci sono i medici con le mascherine, gli uomini in divisa di tutte le forze dell'ordine, che oggi portano anche le uova a casa di chi è stato lasciato senza lavoro e senza soldi da questo virus. È la Pasqua del coronavirus, quella blindata, quella che nessuno dimenticherà mai. Qui siamo nel cuore della pandemia, a Brescia, con le strade vuote, i militari che circondano, l'unico passante che cammina nel parco della città. La parola d'ordine oggi è controlli a tappeto, in tutto il paese, dall'alto e sulle strade, anche con i droni. Da giorni si temono le fughe, soprattutto verso le località turistiche, verso il mare, per questo sono stati impiegati 70 mila uomini, solo oggi, ma i controlli sono iniziati già da ieri sera. Ma che roba? Ma che roba? Fermano tutti, guarda. Sono fermi. Qui siamo sulla superstrada Milano-Meda, si percorre per raggiungere il lago di Come la Valtellina, proprio dal capoluogo Lombardo, che ieri ha fatto segnare un pericoloso aumento di contagi. Una fila lunghissima, anche per i controlli ad imbuto della polizia, di notte, perché così si prova ad evitare i blocchi, inutilmente. Le maglie sono molto strette, anche se le celle telefoniche dicono che a Milano la mobilità è aumentata, come i contagi. In città, in pieno centro, stamattina è tutto deserto. Deserte anche le spiagge del paese, si temevano le partenze dalla Lombardia, soprattutto verso la Liguria, dove si vigila anche dal mare con i mezzi della Guardia Costiera. Qui siamo ad Arenzano, Genova, vuoto anche il litorale romano, dove beffardamente il tempo fa sembrare di essere in piena estate, ma anche qui polizie e carabinieri non lasciano scampo, quasi impossibile non rispettare le regole, rigidissime. Più facile è concedersi solo un pranzo condominiale in terrazzo, nei giardini comuni, ma anche in questo caso ci sono i droni a vigilare. Deserte anche le strade della capitale, dove con un'ordinanza il sindaco ha imposto la chiusura oggi e domani anche dei supermercati che sarebbero rimasti aperti ad orario ridotto. Stessa storia, è tutto chiuso anche in altre città, dove restano aperte solo farmacie ed edicole. Spettrale, il centro storico di Firenze, non c'è un'anima davanti alle due chiese simbolo della città. Bisognerà aspettare i dati del Viminale sui controlli per capire come sia andata davvero. Per ora ci sono le immagini, che raccontano nel giorno di Pasqua un paese dal volto stravolto e segnato da nord a sud, dove si prova in ogni caso a rimanere uniti, pustando lontano. Fino al 3 maggio, dunque, sono in vigore le misure di restrizione, le misure di contenimento. Con l'ultimo DPCM il Presidente Conta ha permesso la riapertura di alcune attività, di alcuni negozi e anche di alcune attività imprenditoriali. Non è così in Lombardia, dove la situazione è ancora molto critica. Il Governatore ha confermato comunque il blocco totale di tutte le attività. Ha deciso di non riaprire cartolerie, di non riaprire libererie e negozi per bambini. Saranno invece aperti da martedì prossimo in tutta Italia. Stessa decisione è stata presa anche dal Governatore del Piemonte, Cirio. Altro fronte caldo è invece il Veneto, dove il Governatore Zaia ha annunciato una nuova ordinanza. Una Milano deserta questa mattina, pochissime persone in giro sono i numeri a spaventare. La mappa del contagio si è aggiornata con dati ancora in salita, 273 decessi e oltre 1500 malati in più nell'arco di 24 ore, concentrati soprattutto nella provincia di Milano, che segna un aumento di 520 casi, di cui 262 solo nel capoluogo. Sono numeri ancora sostenuti quelli della Regione, oltre 10.000 vittime e solo su Milano la mortalità, a confronto con lo stesso periodo del 2019, è cresciuta dell'87% dall'inizio dell'epidemia. Per questo l'assessore regionale alla Sanità Gallera ha annunciato il raddoppio del periodo di quarantena per i positivi al coronavirus. dovranno rimanere blindati a casa sino al prossimo 3 maggio. Ormai le regioni del nord, quelle più colpite dal Covid-19, sulle misure di restrizione decise dal governo, decidono in maniera autonoma. Lombardia e Piemonte continueranno a mantenere le stesse misure del lockdown precedente, quindi niente riapertura delle librerie e delle cartolerie, mentre per la spesa la scelta è demandata alle singole catene di distribuzione. Ieri il Piemonte ha registrato un balzo di 594 malati e 101 vittime in più, uno scenario ancora pesante che ha convinto il governatore Cirio a non allentare la morsa delle chiusure e dei controlli. La Liguria potrebbe cominciare ad allentare la presa autorizzando una lista più lunga di attività ritenute cruciali per l'economia del territorio e adatte a ripartire in condizioni di sicurezza. Il governatore Toti sta pensando agli stabilimenti balneari. Il nulla osta consentirebbe almeno di partire con gli allestimenti e cominciare a ragionare sulle norme di distanziamento. Altro tema delicato, quella della canteristica navale. Si sta studiando come riaprire alcune linee di produzione di fincantieri. In Emilia Romagna c'è già la nuova ordinanza della regione che conferma le misure restrittive, comprese quelle speciali per alcune zone rosse della regione. Ma il governatore Bonaccini punta a accelerare i tempi della ripartenza, passando per un confronto con le parti sociali per riaprire alcune aziende. Il Veneto supera la quota di 14 mila contagiati, con 186 nuovi casi di positività registrati dall'ultimo bollettino di stamane della regione. Dati non ancora tranquillizzanti, ha detto Luca Zaia. Per martedì sarà operativa una nuova ordinanza regionale che cambierà strategia nel contrasto dell'epidemia. Molte restrizioni sembrano destinate a diventare meno pesanti, ma di fronte all'apertura, ha aggiunto il governatore, già di almeno il 60% delle aziende venete e sulla messa in sicurezza dei lavoratori, che avrà concentrato lo sforzo. Ci sono le parole, le parole importanti di Papa Francesco nel messaggio di Pasqua, prima della benedizione Urbi e Torbi. Non è questo il tempo degli egoismi, perché la sfida ci accomuna tutti e non fa differenza di persone. Il Papa ha celebrato la messa di Pasqua in una basilica a San Pietro deserta, una celebrazione quasi penitenziale. Il Papa infatti ha rinunciato ad un rito pasquale in modo così da adeguare la festa al tempo che stiamo tutti vivendo. Non è questo il tempo degli egoismi. Una Pasqua così in qualche modo è destinata a lasciare un segno. Da una basilica deserta, Papa Francesco guarda al mondo attaccato dal virus e invoca il contagio della speranza. Le sue parole hanno una forte connotazione politica quando parla di sfide epocali, che richiedono scelte epocali. Francesco si spinge a chiedere la cancellazione del debito, che grava sui bilanci dei paesi più colpiti dalla crisi. Non è il tempo degli egoismi, scandisce più volte e rivolge un forte appello alle istituzioni europee. Oggi l'Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l'occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative. E' questa la benedizione e l'invocazione di Francesco. Solo nello sfarzo di San Pietro, dietro di lui l'immensità della basilica vuota. Manca lo stuolo di berrette rosse e viola dell'esercito di cardinali e vescovi. Manca il corpo diplomatico, mancano soprattutto i fedeli. Con tre quarti del pianeta chiuso in casa, le celebrazioni della Pasqua nei giorni del Covid si chiudono alle folle, ma arrivano attraverso gli schermi di tv, computer o tablet, in diretta streaming e rilanciate dai social. Nessuna omelia dal Papa, ma una riflessione silenziosa, non solo. Questa Pasqua lascia un segno anche per la rinuncia al rito resurrexit, rito gioioso in cui la Chiesa Cattolica ricorda lo stupore di Pietro nel vedere il sepolcro di Cristo vuoto. Una scelta per adeguare la celebrazione di questa Pasqua alle difficoltà e alle sofferenze di questo periodo. E l'ora più buia, aveva detto ieri durante la viglia pasquale Bergoglio, invitando tutti a non cedere alla rassegnazione, ad avere coraggio. Dobbiamo conquistare il diritto alla speranza e l'invito rivolto a credenti e laici, parole forti, raccolte anche dal capo dello Stato Mattarella che in un messaggio di auguri ringrazia il Papa. Nel silenzio di Piazza San Pietro e della Basilica vuote di popolo, le cui immagini hanno toccato nell'ultimo tutti, scrive Mattarella, credenti e non credenti, particolarmente forte, è risuonata all'eco del suo altissimo appello ad abbandonare ogni illusorio egoismo e a vivere a pieno il messaggio pasquale, percorrendo con coraggio la via del servizio. Intanto da martedì sarà a lavoro la nuova squadra di esperti che affiancherà il Comitato Tecnico Scientifico per la fase 2. È stata nominata dal Presidente del Consiglio Conte che a capo di questa squadra c'è l'ex amministratore delegato di Vodafone, Vittorio Colau. L'obiettivo è quello di individuare le modalità più efficace ed innovative per uscire gradualmente dalla serrata, favorendo la ripresa delle attività produttive nel pieno rispetto delle condizioni di massima sicurezza per i lavoratori. Un compito non facile per la task force guidata da Vittorio Colau che si è insediata ieri a Palazzo Chigi e che già da martedì prossimo dovrà mettersi al lavoro per elaborare dati e soluzioni che possano permettere al Paese la riapertura di aziende ed esercizi commerciali, anche se in modalità graduale. Il team, composto di 17 esperti in vari campi, ci sono economisti, sociologi, psicologi, avvocati ed esperti di innovazione tecnologica, dovrà comunque lavorare in strettissimo contatto con il Comitato Tecnico Scientifico per la tutela della salute pubblica, le cui indicazioni dovranno essere parte integrante dei progetti organizzativi e delle regole per allentare il lockdown che dovrà sviluppare la task force. Colau darà impulso a misure urgenti ed efficaci, ha detto ieri il Premier Conte dopo la prima riunione in videoconferenza con il gruppo guidato dall'ex amministratore delegato di Vodafone che ha dato la massima disponibilità a trovare le soluzioni necessarie che dovranno per forza di cose tener conto sia del rischio contagio sia delle richieste di riaperture sempre più pressanti che arrivano dal mondo produttivo. Occorrerà comunque valutare tutti i profili coinvolti, non solo economici e sanitari ma anche sociali, psicologici e culturali. In loro aiuto le analisi già elaborate da vari istituti come l'Inail e la Banca d'Italia. Il Governo vorrebbe dare il via alla fase 2 il più presto possibile entro la fine di aprile insieme al rilancio degli investimenti e lo sblocco dei cantieri per punti e strade. Anche le aziende più grandi potrebbero riaprire senza troppi rischi per la salute dei lavoratori vista la rigidità dei protocolli già elaborati. Insistono per la riapertura anche i commercianti al dettaglio mentre sarà più difficile il ritorno al lavoro di insegnanti, baristi, ristoratori, estetisti e parrucchieri che più difficilmente possono mantenere le distanze di sicurezza. Al più presto bisognerà stabilire anche nuove regole per i trasporti pubblici per mettere in sicurezza lavoratori e passeggeri. L'idea di Colau è quella di agire selettivamente sul territorio in base al livello di contagio e sfruttare al massimo la tecnologia come è stato fatto in Cina e Corea. Ma in un momento così drammatico le incompatibilità tra governo e opposizioni sono esplose negli aiuti da chiedere all'Unione Europea per fronteggiare l'emergenza. Ieri il messaggio del capo dello Stato Mattarella agli italiani. Per sconfiggere il virus è necessario non fermarsi adesso. Gli auguri di Pasqua del Quirinale si rivolgono direttamente agli italiani con il Presidente che parla di feste in solitudine anche per lui. Messaggio che chiede coralità nei sacrifici, non allegite fuori porta per intendersi, per non vanificare i risultati fin qui raggiunti e sconfiggere il virus. Unità di intenti che il Colle avrebbe voluto anche dal mondo politico per gestire l'emergenza ma soprattutto per il dopo. Politica invece divisa più che mai con Salvini che avrebbe parlato di pietra tombale sul dialogo, propria Mattarella nella telefonata di ieri per lamentarsi dell'offensiva di Conte durante la conferenza stampa convocata per annunciare la proroga della chiusura dove il Premier ha accusato il leader leghiste Giorgio Ameloni di dire falsità sul messi, il fondo salva stati. Nel dopoguerra PC e DC collaborarono rilancio a Salvini, qui c'è chi vuole fare tutto da solo e se nella maggioranza molti considerano sacrosanta la reazione di Conte all'offensiva di Meloni e Salvini, Conte ha detto solo la verità contro le fake news, la linea 5 stelle, non manca chi ne critica il Galateo. Un Premier deve sempre rispettare l'opposizione, dice dalle filadem Zanda, anche se nemmeno in queste circostanze Salvini e Meloni sono stati sensibili verso l'interesse nazionale. Conte dovrebbe comunque andare meno in tv e più in Parlamento. La trattativa in Europa del resto ha prodotto contraccolpi anche all'interno della stessa maggioranza dove il fronte 5 stelle mal digerisce qualsiasi accenno al MES, anche la nuova linea di credito senza condizioni per le spese sanitarie, mentre il PD la vede diversamente. Nella maggioranza troveremo un punto di sintesi, dice la ministra dei Trasporti De Micheli. Sul MES discuteranno le camere, come previsto per tutti gli accordi europei. Quando sarà chiusa la trattativa e sarà chiaro che non ci sono condizioni, allora il MES come lo conosciamo non esisterà più, divisioni che rischiano di indebolire il Paese nella trattativa europea, che avrà un nuovo round il 23 aprile. Nel frattempo aziende e imprese chiedono di riprendere il prima possibile la produzione, ma poi c'è la preoccupazione dei sindacati per quanto riguarda il mantenimento del reddito e del posto di lavoro. Il procuratore nazionale antimafia Caffiero Derao chiede che i fondi all'impresa siano tracciati. Un conto corrente dedicato, dotato di un codice che permetta di tracciare i soldi, entrate, uscite, spese. Lo propone oggi in un'intervista al procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero Derao per controllare i fondi che lo Stato tramite le banche erogherà alle aziende che ne faranno richiesta. E questo perché se il tema di quando saranno davvero disponibili questi soldi è ancora oggetto di discussione, ma pare ormai certo che ci vorranno almeno un'altra decina di giorni, l'altra questione aperta è quella relativa a come evitare che la criminalità organizzata possa appropriarsene indebitamente. Del resto, fra le raccomandazioni fornite ieri dalla Banca d'Italia agli istituti di credito, c'era anche un capitolo dedicato proprio a questo tema. Se da un lato infatti l'Istituto Centrale caldeggiava una risposta veloce, non aggravata da eccessi burocratici, dall'altro metteva in guardia sia sul rischio di prestiti, chiamiamoli così, fatti da usurai, pronti poi però a rilevare aziende in difficoltà, e dall'altro a come evitare appunto un uso fraudolento di quegli stessi fondi. Il che ovviamente complica le cose per le banche, chiamate comunque a fare accertamenti per prestiti superiori ai 25 mila euro. Ma, dice Caffiero De Rao, con un conto corrente e un codice si potrebbe forse arginare il problema. Intanto il mondo produttivo scalpita e chiede di riprendere la produzione. Alcuni settori, come l'industria del tessile e abbigliamento, ad esempio, che rappresenta la seconda voce del PIL nazionale, con un fatturato intorno ai 90 miliardi di euro e più del 70% delle esportazioni, sono per il momento esclusi dalla ripartenza. Eppure è proprio in questi mercati esteri che rischiano di non poter più arrivare se i tempi dovessero allungarsi troppo. Il tema è quello di tenere insieme tutto, salute, sicurezza, economia. Di questo continuano a preoccuparsi non solo gli imprenditori, ma anche i sindacati che oggi, attraverso i segretari confederali di CGL Cislewil, firmano una lettera nella quale invocano un nuovo modello di sviluppo per il Paese. Preoccupati anche per la salvaguardia del reddito e dell'occupazione, il che, nelle parole di Landini della CGL, si traduce ad esempio in un'ulteriore clausola per chi dovesse ricevere i finanziamenti statali, no ai licenziamenti, così come alle delocalizzazioni. In questa battaglia contro il virus non ci sono soltanto gli operatori sanitari, medici e gli infermieri, ma anche i preti. Dall'inizio del contagio sono morti 100 sacerdoti. Il Papa li ha ricordati in una messa matutina al Santa Marta, pensando al loro sacrificio durante la pandemia. un anno era stato missionario in Camerun e in Paraguay, l'avevano minacciato in Arcos perché denunciava corruzione, droga e traffico di armi. Remo Luiselli, 82 anni, aveva avviato sul finire degli anni 80 una comunità di recupero per tossicodipendenti. E' la Spoon River dei preti bergamaschi, 25 sacerdoti morti in questo mese di passione di coronavirus. Don Mario Carminati è il parroco di Seriate e a diretto per anni l'ufficio Catechismo della Curia. Li conosceva praticamente tutti. I sacerdoti sono molto a contatto con le persone da noi. Non so in altri luoghi, forse un po' di meno in alcuni luoghi che ho visto nel mondo, però qui noi siamo a contatto da mattina a sera. Abbiamo la casa trasparente, ti suonano a tutte le ore e quindi sono davvero pastori che hanno l'odore delle pecore. La cinzia. Il vescovo Francesco Beschi in questa settimana santa ha chiesto ai suoi preti di rinunciare a tre mesi di stipendio e di metterli in un fondo per i poveri. Nel pieno della crisi aveva ricevuto una telefonata dal Papa colpito dalla strage di Bergamo anche fra i suoi sacerdoti. Sono santi della porta accanto, ha detto Bergoglio nella messa del giovedì santo. Alcuni hanno perso la vita, sono morti, alcuni erano molto anziani, altri erano proprio nella loro azione pastorale quotidiana e lì in mezzo alla loro gente hanno condiviso anche la fine di molti, purtroppo a Bergamo, la loro morte. Come sente di ricordare questi suoi 25 preti morti sul campo? In questi giorni non è semplice sorridere, però tutti hanno bisogno di un sorriso. Ecco, io vorrei ricordare questi sacerdoti con il loro sorriso che ho avuto la gioia di poter vedere tante volte sul loro volto. E poi ci sono i tanti anziani morti nelle case di riposo sulle quali la Procura di Milano e di altre città del nord vogliono fare luce. Una parte degli infermieri inviati dalla protezione civile nelle regioni più colpite dal contagio saranno destinate all'RSA, dice Angelo Borrelli. Un rinforzo del personale sanitario decimato anche in queste strutture assistenziali dove gli anziani continuano a morire e su cui diverse procure delle principali città del nord Italia indagano. Una dozzina finora ai fascicoli aperti della Procura di Milano mal numero è destinato a salire perché aumentano le segnalazioni su presunte irregolarità nella gestione dei pazienti e degli ospiti delle case di riposo milanesi già nei primi giorni dell'epidemia. Più di 100, forse 150, decessi avvenuti nel più albergo Tribuzio in un mese e mezzo e su cui i magistrati milanesi vogliono fare luce, verificare se ci sono state carenze che hanno permesso la diffusione del contagio, dall'assenza di tamponi e mascherine al personale sanitario fino a eventuali omissioni nelle cartelle cliniche passando per pericoli sottovalutati e procedure anomale. Nel registro degli indagati è finito il direttore generale per epidemia colposa e omicidio colposo che intanto si è difeso davanti agli ispettori del Ministero della Salute. Le procedure sono state rispettate così come i protocolli, le direttive ministeriali e quelle della Regione che ha compiti di sorveglianza sull'RSA, ha detto il direttore generale della Baggina. In chiesta fotocopia anche al Dognocchi dove sono indagati due dirigenti dell'azienda e il presidente della cooperativa dei lavoratori, accuse infondate per la fondazione che rimanda al mittente, cioè all'avvocato degli infermieri che hanno denunciato le mancanze dei vertici sanitari, la sua dichiarazione sul costo di 150 euro per ogni paziente Covid ospitato nella struttura rimborsato dalla Regione. 36 quelli trasferiti dagli ospedali in reparti dedicati e separati dagli altri. Saranno indagini prevalentemente documentali, dicono i magistrati, soprattutto in questa prima fase in cui è complicato andare direttamente nelle strutture. Fascicoli di indagini aperte anche in Piemonte, almeno 450 decessi nell'RSA di Vercelli, Novara e Torino. Torneremo a parlare poi della situazione in Europa e nel mondo nella seconda parte del telegiornale ma adesso c'è una notizia che riguarda i migranti perché nel Mediterraneo centrale ci sono quattro imbarcazioni con a bordo diverse decine di migranti alla deriva e senza possibilità di approdo. Uno dei gommoni sarebbe naufragato. A installo la situazione dell'Alan Kurdi che si trova a largo delle coste occidentali della Sicilia ma che non può sbarcare per via dell'emergenza coronavirus, la ONGCI ha chiesto comunque, oltre ai viveri, anche carburante medicinali per poter ripartire verso la Francia. Il Viminale ha fatto sapere che viene garantita l'assistenza umanitaria. I 156 migranti, soccorsi lunedì scorso e ora ospiti della nave dell'ONG tedesca su richiesta del Ministero dei Trasporti sono stati assistiti dalla Croce Rossa. Sono stati riforniti di cibo e nelle prossime ore saranno trasferiti in quarantena su una nave della Guardia Costiera per i controlli delle autorità sanitarie. E questa mattina a 2 miglia dalla costa di Siracusa è stato intercettato, sempre dalla Guardia Costiera, un gommone con una quarantina di migranti. L'imbarcazione è stata scortata fino al porto di Pozzallo pochi minuti fa e qui ha traccato. E ha traccato pochi minuti fa. Ci fermiamo, ci fermiamo adesso per la pubblicità a tra poco con le altre notizie. Eccoci di nuovo in diretta, cominciamo dalla situazione nell'Europa occidentale. Il numero delle vittime in Francia e in Spagna è infrenata, mentre in Germania sembra si stia stabilizzando la curva dei contagi. Ieri invece la Gran Bretagna ha registrato il peggiore bilancio giornaliero. Il premier Boris Johnson è sempre ricoverato in ospedale, ma ha voluto ringraziare i medici per le cure sostenute. E mentre in una intervista al quotidiano Bild, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha detto che gli anziani dovranno essere protetti ancora molto a lungo. La Pasqua nell'anno della pandemia, che in Europa ha ucciso più di 75 mila persone, sarà ricordata anche per immagini come queste, città abitualmente attraversate da migliaia di persone tra residenti e turisti, desolatamente vuote. Questa è Malaga, serrande abbassate, piazze deserte, spiagge affollate solo da gabbiani. Sulle strade di Barcellona passano i mezzi militari delle unità d'emergenza, i camion sanificano e dai droni arrivano disinfettanti e voci che ricordano ai pochi che si trovano in giro di rispettare le distanze di sicurezza. Anche perché il peggio non è ancora neanche lontanamente alle spalle ad interrompere la lenta discesa della curva dei decessi che finora aveva fatto sperare, sono stati 109 morti in più rispetto a quelli registrati nelle 24 ore precedenti. 16.975 finora le vittime del Covid-19 in Spagna. Nelle case di riposo per anziani di Barcellona ci sono i volontari della ONG Open Arms, danno supporto fisico e psicologico, soprattutto trasferiscono in altre strutture fuori città gli ammalati per evitare che il contagio si diffonda. Dobbiamo essere disciplinati e pazienti, ha detto Ursula von der Leyen in una intervista al quotidiano tedesco Bild, nel corso della quale ha sottolineato che soprattutto gli anziani dovrebbero rimanere in isolamento fino alla fine dell'anno per proteggersi dal virus. Nel Regno Unito, dove il 21 aprile per doveri costituzionali riaprirà il Parlamento tra parchi e spiagge, c'è ancora troppa gente in giro. Eppure dovrebbe essere di monito il numero delle vittime in crescita, quasi 9.900, e la sorte del Premier Johnson, finito, seppur per pochi giorni, in terapia intensiva. Ringrazio i medici che mi hanno salvato la vita, ha detto l'uomo della Brexit, che ha visto rinnovare il permesso di soggiorno a 3.000 tra medici e infermieri, che si sono rivelati più importanti che mai per il servizio sanitario del Regno Unito. La Svezia ha fallito il tentativo di evitare il lockdown e il Premier ha ammesso l'errore, ma nonostante l'aumento di contagio e morti, ancora non è stata presa una decisione definitiva. In Francia, ancora drammaticamente travolta dall'epidemia, che finora ha ucciso quasi 14.000 persone, domani sera Macron parlerà alla nazione, molto probabilmente annuncerà il prolungamento del lockdown. Andiamo dove tutto è cominciato in Cina, dove si teme una nuova andata di ritorno di Covid portata dall'estero da fuori, per questo le frontiere resteranno chiuse, l'allerta passa da verde ad arancione, che vuol dire obbligo di stare in casa, mentre resta molto drammatica la situazione negli Stati Uniti. Dovevano essere i giorni della riapertura per gli Stati Uniti, ricordate la promessa di Donald Trump, e invece la messa di Pasqua qui in South Carolina si deve celebrare così, versione drive-in, con i fedeli sigillati dentro le automobili, costretti a usare il clacson per rispondere al sacerdote. Da ieri gli Stati Uniti, oltre a essere il paese col più alto numero di contagi, sono diventati anche quello col più alto numero di vittime, oltre 20.000 più dell'Italia. E nelle ultime ore con l'aggiunta del Wyoming, ormai tutti e 50 gli Stati hanno proclamato la calamità ed è la prima volta nella storia degli USA. Al centro del disastro resta ancora New York, che anche ieri ha registrato 783 vittime. Il governatore Andrew Cuomo ha parlato di numeri ancora terrificanti, ma che si stanno stabilizzando rispetto ai giorni scorsi. Le attuali misure di contenimento resteranno in vigore fino al 30 aprile. La prossima settimana si riunirà il nuovo gruppo di esperti scientifici ed economici che dovranno consigliare Trump su quella che il Presidente ha definito la decisione più difficile che abbia mai preso, cioè quando e come avviare la riapertura. Questo mentre il New York Times lo attacca, sostenendo che già da gennaio gli fosse stata ampiamente segnalata la pericolosità del virus, ma che la Casa Bianca non fece nulla per intervenire. Immediato il tweet di risposta del Presidente, quando i falliti scrivono una storia senza riportare i nomi delle fonti, non credeteci, la maggior parte di queste fonti senza nome non esiste. Nell'America del Sud il Brasile è lo stato finora più colpito, con oltre 20.000 casi, preoccupa come ovvio la situazione nelle favelas, come questa che vedete di Rosigna a Rio de Janeiro, dove una ONG ha appena avviato una campagna di tamponi per cercare di tracciare la diffusione del virus. Messa di Pasqua senza fedeli anche nella chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, il governo israeliano ha appena imposto quattro zone rosse all'interno della città, che è il centro più colpito dal coronavirus in tutto il paese. Dall'altra parte del mondo, in Cina, dove sembrava già di essere entrati nella fase post-Covid, torna a crescere il timore per i casi importati, che si moltiplicano. Pechino ne ha appena annunciati 97, il numero più alto da inizio marzo, e nella capitale risale il livello di allarme, passato da verde e arancione, che prevede l'obbligo di restare in isolamento a casa. Ha chiesto un ulteriore sforzo ai suoi compatrioti, bloccati in casa dal 25 marzo, e il primo ministro indiano Narendra Modi, oltre un miliardo e 300 milioni di persone, dovranno affrontare altre settimane di lockdown. Vediamo questa pagina, c'è stato un lutto nel mondo dello sport. Sterling Moss, uno dei più famosi piloti nella storia della Formula 1, si è spento oggi all'età di 90 anni nella sua casa di Londra, la sua carriera si sviluppò a cavallo tra gli anni 50 e 60, e lo vide alla guida di vetture di team importanti come Maserati e Mercedes. Moss rimane il pilota che detiene il record di Gran Premi vinti, 16 tra quelli che non sono però mai riusciti a conquistare il titolo mondiale, ma arrivò secondo per quattro volte. La sua impresa più grande rimane il trionfo nella mille miglia delle 1955. Ed è tutto, prima di salutarvi vi ricordo come sempre la nostra sottoscrizione insieme al Corriere della Sera e alla Gazzetta dello Sport che hanno raccolto dei fondi destinati all'acquisto, una raccolta fondi destinata all'acquisto di attrezzature mediche di prima necessità. È possibile effettuare dei versamenti presso Intesa San Paolo, filiale Terzo Settore Milano, città intestato ad un aiuto contro il coronavirus. Quello che leggete è Liban, che potete anche andare a rileggere sui siti web della Sette, della Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera. È tutto, grazie per averci seguito. Vi ricordo al prossimo appuntamento con informazione. Alle 20 buona Pasqua ancora a tutti voi. Grazie a tutti.